Il cuore del problema delle crisi sta nella debolezza della domanda aggregata e per far ripartire la ripresa serve creare un contesto più favorevole per riavviare gli investimenti sia nazionali che europei. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia Visco a Milano. Rilanciare gli investimenti pubblici, privati, nazionali e europei è fondamentale al fine di far ripartire il recupero e rendere il contesto imprenditoriale più favorevole agli investimenti.